A San Severo dal prossimo 22 ottobre riprenderà il servizio di refezione scolastica per i piccoli utenti delle scuole dell'infanzia e primarie cittadine e nel frattempo verrà espletato il nuovo bando per il servizio della mensa scolastica e domiciliare per gli anziani, con cui sono state previste una serie di novità dalla civica amministrazione. Tra queste l'introduzione del biologico, la promozione dei prodotti locali e di filiera corta, della rete del lavoro agricolo di qualità, nonché l'applicazione della normativa contro gli sprechi alimentari. Inoltre con il nuovo bando di gara il comune di San Severo si doterà di un centro cottura centralizzato di proprietà pubblica che verrà concesso in uso per il periodo strettamente limitato all'espletamento del servizio e pertanto la durata della concessione del centro cottura e durata dell'appalto coincideranno. Questo garantirà anche per il futuro che la produzione dei pasti per la mensa avvenga sempre in loco.